Amata, premiata, raffinata e dalla voce unica, Adele è proprio in questi giorni al centro di un giallo in proposito all'uscita del suo nuovo album. Voci discordanti, conferme, smentite, stanno infatti facendo da contorno alla notizia dell'ipotetica uscita nel 2015 del nuovo lavoro discografico della cantante di Skyfall. Il titolo dovrebbe essere 25 e sarebbe stata la stessa cantante ad anticiparne l'uscita con un cinguettio. Bye Bye 25, ci vedremo di nuovo quest'anno. Questa è ovviamente la presentazione scritta da Adele Lori Blue Atkins, il nome della cantante, nella data del suo compleanno. Oltretutto, la comunicazione era stata seguita da un messaggio pubblicato dall'Award Music Award di Monte Carlo. Adele confirms 2015 tour after the release of her new album 25. Questo è quanto, fatto sta che presto è arrivata anche una sonora smentita firmata da Martin Mills, capo dell'associazione Beggars Group, di cui la cata discografica di Adele, la XL Recordings, è membro. Rimane così circondato da un alone di mistero l'uscita del terzo album di Adele, che dovrebbe contenere anche collaborazioni più che autorevoli con Phil Collins, Roger Daltrey, Elton John, Steven Tyler e addirittura un duetto con Madonna e uno con Prince. 2015 o no, staremo comunque ad aspettare con gioia l'uscita del nuovo album di Adele.